La tua avversaria è Sana Chiba, nipote di Susano. In guardia! Che tecnica incredibile! Arrendermi? Al contrario! No! Tu, perdona, non menti. Sei da ser, forte come uno. Che tecniche! Perfetto! 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 E' di sana, come non vi sia possibilità di vincere Se pensi che sia ancora una ragazzina, sei in errore Non ho ancora vinto Non rinuncerò mai a te, Ryoma